Musica Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di un mondo di cubi Tante canne da zucchero, canne da zucchero, tossici, sono delle canne normali Ok ragazzi bando alle cavolate mi sentirete sicuramente intasatissimo Si sono intasatissimo in questo video Quindi se tu capisci me bene, se tu non capisci me bene comunque E niente spero di riuscire a comunicare con voi anche se sono raffreddato come uno snow golem E niente ragazzi quindi adesso oggi in questo video andremo a cominciare una nuova spedizione Una nuova missione, una nuova avventura nell'inferno Perché nell'inferno? Prima di tutto perché bisogna risolvere come mi ha fatto notare un utente questo problema che abbiamo con i portali sballati E secondo perché ho bisogno di una fortezza Perché ferre ha bisogno di una fortezza? Ok adesso comincia il ragionamento profondo Allora ferre ha bisogno di una fortezza per trovare i blades Ucciderli, prendere le blades rod Dalle blades rod creare l'alambicco Dall'alambicco creare le pozioni di debolezza Dalle pozioni di debolezza trasformare dei villager in, cioè dei zombie villager in villager E dai villager creare la sua farm di ferro Di cui ha bisogno follemente Di cui ha bisogno veramente follemente Per creare gli hopper Ho bisogno di tanti hopper perché ho creato poco fa off camera una farm Non vi dico di cosa, non ve la faccio neanche vedere Perché è veramente una bellissima E sottolineo bellissima farm E non voglio che nessuno mi rubi l'idea No scherzo, non penso che mi rubi l'idea Perché potrei tranquillamente farla vedere adesso Però non ho Non ho ancora i materiali per farla Quindi prima di riuscire a fare una cosa del genere Dovevo aspettare molto Quindi tanto vale La tengo alla in modalità creativa Che non la vede nessuno La bella nascosta E non succede niente Quindi adesso prendiamo il nostro piccone confortuna Che è già qua con noi Buonasera piccone confortuna come sta Spero tutto bene E ho dei lingotti di ferro con me Che andrò a utilizzare per ripararlo Intanto come vedete là il mio inventario Ho già abbastanza livelli E appunto partiremo per questa spedizione nel nether Che spero non sia noiosissima Perché non troveremo niente E... Però ragazzi cosa vi posso dire Incrociamo le dita Magari attraverserò anche Il mare di lava E cercherò di trovare questa Fottutissima Fortezza Perché Oddio che cavolo di canyon c'è qua sotto Ma avete Ma avete visto che canyon c'è qua sotto? Oddio Vabbè L'avete visto Mi basta quello E... Andiamo qua dall'incudine Incudine Facci Sognare Ok Perfetto Riparato completamente Fantastico Ho buttato Ok ragazzi Quindi Direi che Prendo tutti i materiali Poso tutta la roba Prendo tutte le cose necessarie Per la sopravvivenza Sopravvivenzosa E ci vediamo tra poco nel nether Ok ragazzi Rieccoci Prendo ancora un po' di cibo E soprattutto Prendo un po' di blocchi Un po' di blocchi I quali possono essere questi Ok qua Perché c'è un filo fuori Non lo so Ma va bene E... Direi Che adesso possiamo partire Allora E... Mentre appunto Parto Verso Il nether Voglio parlarvi Di una cosa Di una cosa E... Ovvero De... Della nuova snapshot Che è uscita Infatti Un mondo in cui adesso Come posso dire Oddio Nel frattempo Lagghiamo anche un po' Che ci sta sempre E... Un mondo in cubi E... È una serie Che è un po' più Aperta Da un paio di episodi Infatti Adesso tratta Anche di snapshot Infatti Adesso parleremo Insieme Un attimino Della snapshot Perché è uscita La snapshot 13v47a Allora Non sto a farvi vedere Anche perché adesso Come vedete Girò Per il nether E non sto a farvi vedere Cosa ha aggiunto Veramente Proprio Facendo un video Fisico Perché Non ha aggiunto Niente di che E questo è il fatto E questo Il problem Ragazzi Non è stato aggiunto Nulla La vera novità È che adesso Per chi Fa un uso di minecraft Non personale Quindi appunto Chi come me Fa dei video E... Appunto Non ne fa un uso Mi pensavo Mi volevano Attaccare Ragazzi Mi sono preso Una paura Di quelle Assurde L'ho visto Che mi veniva Addosso Mi sono spaventato Come un Cane Ok Basta Ehm... Niente Dicevo appunto Che Per chi Non fa un uso Personale di minecraft Ma solo Per chi Appunto Lo usa Per registrare Oddio Ehm... Adesso È possibile Dalla Snapshot 1 punto Ehm... No Non 1.7 Cosa voglio dire Ragazzi A proposito Qua ho un piccone Con fortuna Quindi cominciamo A prendere il quarzo Ehm... Non riesco a parlare Lo so Perché già Sono raffreddato E... Ho... Ho... Mille problemi Con i pigmen Con la lava Ehm... Poi ancora Parla della Snapshot Viene un po' Complicato No Comunque A parte gli scherzi Ragazzi Ehm... Ma se io Rompo la glowstone Col piccone Con fortuna Mi ne esce di più? Direi di no Quindi ti lascio lì Direi che piuttosto Prendo il quarzo Aiuto! Ma che cacchio è? Guardalo Guardalo All'infame Vieni qua Infame Vieni qua Stavolta la tua lacrima La prendo io Vieni qua Ok Dammi la tua lacrima Sì! La Gust tear Sì! Eccola qua Ha 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 Comunque stavo cercando di parlare dello snapshot Tipo l'anno scorso Ehm... Appunto Hanno aggiunto la possibilità di fare I live Ehm... Orca di quella Signorita Meglio toglierlo subito Perché un giorno Io morirò Di quel buco Ne sono certo Aspettate ma Sì lo so Sono un folle Aia Veramente Tanto aia Però qua Ci sono nuove zone Inesplorate Mamma mia Ma sei matto Ferre Sei matto Sei un folle Oddio Comunque appunto I live di Twitch TV Si possono gestire Direttamente da Minecraft Questo è Diciamo La novità principale Quindi non sto a fare Un video apposso Di studio Da Snapchat Perché appunto Come ho detto Tutte queste cose Verranno incollobate Un mondo di cui Almeno Potrete vedere C'è un muro di lava Dove posso passare Se c'è un muro di lava Io Io non posso fare Assolutamente nulla Se c'è un muro di lava Grazie No ma lava Ma grazie lava Ok Vediamo qua Se c'era per caso Una caverna Qualcosa di figo Così la lava Si ritira E Comunque Ci sarà molto Da cercare Molto Perché la fortezza È dura Da trovare Credetemi Abbiamo già Uno stack di quarzo Ma quanto ci mette A ritirarsi Questa lava Dai lava Su Dai Poker face Non c'è niente Che bello Ok ragazzi Dove andiamo? Non lo so E questo è il problema Non si sa Perché È difficile Muoversi In questi Punti Pigman Vatti a fare un bagno Ok Perfetto Io vorrei Prendere questo Quarzo Quarzo Ce la farò Ti puoi Levare Per favore Vai a farti Un bagno La lava Oddio Mi stanno Troppo addosso I pigman Ecco Mi state Mi state Addosso Pigman Mi state Troppo addosso Credo Proprio Che risalirò Non prima Però di aver preso Quel quarzo Lì anche E Niente ragazzi Appunto Dovò cercare Questa cavolo Di fortezza E non sarà Facile Credo che Farò uno Stacco Sicuramente Perché Non penso Che Voi Apriate Il video Pronte A divertirvi Guardando me Che raccolgo Quarzo E dico Cazzate Beh che dico Cazzate Ci può ancora stare Ma che raccolgo Quarzo E quindi Direi che Faccio Un piccolo Stacco Come solito Per noi E ci vediamo Tra poco Ok ragazzi Dopo aver Accolto Sette Stacche Di quarzo Dopo aver Consumato Diciamo 248 Utilisi Di un piccone Ed esserne Venuto a prendere Un altro Posso dire Di non aver Ancora Trovato la Fortezza Le scatole Perché Voglio la Fortezza Uffa Andrò a posare Un po' di Quarzo A casa E poi Ripartirò Ragazzi Ehm Veramente Datemi la mano Anche voi Nelle vostri Nelle vostri Seed No è vero Anche il nether Era un seed E il mio Non si caricano Le foglie Ah ok Boh Questa è nuova Ehm Niente Non potete Non potete Aiutarmi Nessun modo Cazzuola Cazzuola Ragazzi Posiamo un po' Di quarzo Ah Non ce ne sta più Bello Molto bene Lo mettiamo qua Non ce ne sta neanche più lì No Non abbiamo più C'abbiamo troppo quarzo Ragazzi No perché Oddio Questo è un problema Sì Ehm Vado a collerne altro Ragazzi Ehm Comunque Il portale è ufficialmente Buggato Questo qua è il portale Ufficiale Non so perché Non so che Ragionamento Arcano Abbiamo fatto minecraft Per farlo Comparire Questo portale Ma va bene Eh contento minecraft Ehm Oddio L'albi più totale Perfetto Allora Fatemi pensare Adesso Dove posso andare Non lo so Non so veramente Dove posso andare Ma veramente Non lo so E se ti può Provarsi ad andare di qua Non lo so ragazzi Devo comunque fare Un altro stacco Recupererò l'altro quarzo Continuerò a girare E ci vedremo tra poco Sì Cazzo Sì Cavolo ragazzi Le abbiamo trovato Eccola là Ci sono già Gli scheletri Wither Molto bene Sì E quali hanno Sto fortezza E vai Sì Sì E vai Allora calma Lu Calma Calma Allora Calmati Ferre Stai calmo Raccogli il quarzo Non pensare Alla fortezza Fortezza Ragazzi Sì Le abbiamo trovato Finalmente Ok ragazzi Adesso 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 Facciamo uno screenshot Ok Ho fatto Uno stop La registrazione Anzi Che fare uno screenshot Ma va bene Con calma Non c'è fretta Qua ci vedo già una casa E qua ci vedo lo screenshot Più epico del mondo Ok Decisamente Sì Decisamente Sì ragazzi Decisamente Sì a cosa? Non lo so Però decisamente Sì Ah Che bello La fortezza E sì Quindi direi che Andrò a esplorare Tutto quanto Ma non in questo episodio Eh lo so Sono tremendamente Maledettamente Cattivo Chissà Cosa troveremo In quella fortezza Ragazzi Perché adesso Le fortezze Sono piene Oddio mio Aia Mamma mia Vieni qua Che bug è Sta cosa qua Delle frecce Che male Mi hai fatto male Ehi pigmen Stai lontano Mi ha fatto spaventare Grazie comunque A gust Perché io parlo Mi interrompi sempre No ma grazie Adesso qua Dobbiamo Aggiustare tutto Perché qua Voglio farci una casa Non siamo neanche Tutto sommato Molto distanti Dal portale Questa è una buona cosa E Mi si è spaventato Un gust in faccia Sì Che bello Sì sì Che bello Sì perché lì Un secondo fa Non c'era Dai Non si può Spaventare così E Niente Sono contento Molto Guarda qua Che bello Che bello scenario Che c'è Sì qua una casa Ci sta Veramente Adesso com'è Che salgo Però Chi lo sa Come farà A salire Chi lo sa Lo scriva Nei commenti Ok Nel frattempo Ragazzi Io come al solito Vi invito A lasciare un like Perché youtube È stronzo Vi invito a commentare A iscrivervi al canale Mi invito a mangiare Una bistecca Perché fa bene Mangiare le bistecche E niente Finalmente l'abbiamo trovata Non siamo Non siamo molto lontani Devo ammettere che in tutti quanti I miei gameplay È sempre stato un po' Un casino Trovare la fortezza E Peccato Comunque adesso Da qua noi saliremo Molto sciallamente Come non si dovrebbe fare Ma pazienza Perché tipo Adesso qua Bisogna scavare Vero Sì E tipo qua La fortezza finisce Quindi tipo Devo fare Un giro assurdo Come faccio A salire su di qua Ragazzi Sinceramente Non lo so Sinceramente Non lo so Ma Anche Se devo Proprio rompere No Facciamo una cosa Retromarch Retromarch Calmi tutti Tappiamo tutto Come saliremo lassù Lo scopriamo Decisamente Nel prossimo episodio Ragazzi Eh sì Penso che farò una colonna di terra Dai Non è che farò tante cose Oppure aspettate Ehi Allora Gast Non è il momento Ma decisamente Non lo è Non è che lo dico così Per convenzione Ho paura ragazzi Tanta paura Costi versi Questi rumori Fecondi Che ci fa Il gast Tutte le volte Gast Per favore Possiamo andare d'accordo Gast Non mi fare Sti versi Per favore C'è feeling Tra me Ecco lo sapevo Aiuto Dove sei Oh Ecco ti da Vieni qua Bug Bug assurdo Ok Fantastico L'ho ucciso In un modo epico Peccato che Ci sono C'è pure il bug Delle frecce Adesso Minecraft Non sa più Che bug Inventa Ma ancora Ma lo fai apposta Allora eh Aiuto Mori Ok Si decisamente Lo fai apposta Eh sì Stupido Maledetto Oh qua c'è altro quarzo E Nulla ragazzi Qua raccoglio Altro quarzo Qua una bella Casa ci sta Dobbiamo progettare Ecco A proposito ragazzi Mi avete inviato Veramente tantissimi E dico Tantissimi Screen Su facebook Grazie a tutti Ringrazio veramente Siete tantissimi Che mi avete inviati Mi fa piacere Mi fa veramente piacere E Se volete inviame Uno sulla casa Da fare qua Sarò felice di guardarlo Altrimenti Ho già qualche progettino In mente Qualcosa stile Stile paradiso In mezzo al nether Si decisamente No scherzo Una casa stile nether In mezzo al nether Si Lo so Una fantasia Sconfinata Eh sì Stile nether In mezzo al nether E' una cosa Che non ha mai fatto nessuno Penso Nemmeno I più grandi youtuber americani Eh esatto Comunque non so Sentite in sottofondo Le nuovissime Compilation Non scherzo Le nuovissime canzoni Di minecraft Le nuovissimi suoni E comunque di Ma là c'è un altro pezzo di fortezza Ma che cuore Qua c'è altro quarzo anche Molto molto bene Beh ragazzi Io qua il quarzo Penso che Lo raccoglio per un bel po' E Penso che scaverò Una Scala chiocciola Incavata Nella colonna Di queste qua Della fortezza E Sono nel prossimo episodio Girovagheremo Alla ricerca di Armature per cavalli Di tutte le cose che si possono trovare Nelle casse Di Blades Di teste di Wither Anche Faremo una bella Scorpacciata di tutto Quindi ragazzi Io come al solito Vi ringrazio Spero che il video vi sia piaciuto L'oggetto diventa Grali Quindi non ve lo ripeto E E niente ragazzi Quindi Io come al solito Vi ringrazio E vi do Appuntamento Qua per essere Devo fare Una mezza mossa Di parkourismo Ok E vi do appuntamento Al prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti